Finalmente sono tornato con i nuovi video, oggi parliamo di un modo di dire che ha usato Sheldon in una delle... C'è una mosca che gira ragazzi, aaaah! Sheldon ha detto questa cosa in una delle prime puntate di The Big Bang Theory. Hey, what's going on? Internet's been down for half an hour. C'è una mosca! Leonard entra nella stanza e dice, hey, what's going on? Che cosa sta succedendo? E Sheldon dice, internet has been down for half an hour. Se internet, se il signor internet è down for half an hour, oppure se un sito internet è down, vuol dire che in quel momento non funziona. Vuol dire che il servizio è down, il servizio in quel momento non c'è, non funziona, c'è un guasto al servizio. Lo possiamo usare appunto con siti internet che in quel momento lì non funzionano, lo possiamo usare con la linea di internet della nostra casa. Per esempio il wifi potrebbe essere guasto, la linea, diciamo, del vostro fornitore potrebbe essere guasta, quindi non vi arriva l'internet. Oppure a volte viene anche usato con i social network. Se per esempio non vi funziona Instagram, si dice che Instagram is down or WhatsApp is down, che qualche volta succede. Attenzione c'è anche un sito internet che si chiama proprio down detector, e voi scrivete il nome del sito internet che volete usare e vi dice se quel servizio, se quel sito sta funzionando correttamente oppure no.